Su Black Friday ci sarebbe da dire perché, come sapete, io l'ho portato in Italia per la prima volta, parlo in prima persona, otto anni fa. È stato il primo Black Friday che aveva delle regole chiare e precise e dava anche soddisfazione per smaltire certi prodotti facendo un po' da promozione con capi mari importanti. E questo ormai è degenerato, ormai il Black Friday dura 20 giorni, 15 giorni, 3 giorni, 5 giorni. Il Black Friday non è più quello di una volta, evidenza il presidente di Confcommercio Veneto, secondo cui, così come è pensato, non fa che penalizzare i commercianti, soprattutto in questo momento che devono rialzarsi dopo la botta subita a causa della pandemia. Non è più il Black Friday quello che intendavamo noi, che era una promozione. Vieni nel mio negozio, ti do un cappotto, quello che era più che altro, su questo tipo di genere di prodotti, te lo do a un prezzo accessibile, però nel contesto tu vieni dentro e vedi un po' tutto. Questo non è più così, quindi stiamo anche pensando a qualche altra forma da proporre l'anno prossimo, perché, diciamo, se no non si può vivere di sconti. Un negozio non può vivere di sconti, perché ricordiamoci che poi partono i saldi alla prima domenica di gennaio e questo per noi sarebbe veramente, allora dobbiamo cambiare registro su tutto.